Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram e vi ricordo che sono attiva anche su Facebook, vi lascio il link nell'info box. Detto questo, andiamoci dentro col video. Avete presente i parassiti, quegli organismi o esseri che vivono a spese di un altro? Come reagireste se il parassite in questione fosse un uomo che con l'inganno si infiltra in casa vostra, facendo la sua e costringendovi a una convivenza da incubo? Jameson Buckman nasce nel 1957 e cresce a Elkins Park, vicino a Philadelphia, dove vive con i genitori e il fratello maggiore Harry, più grande di quattro anni. Suo padre possiede una società di costruzioni di successo, la famiglia ha ottime risorse finanziarie, vive in un buon quartiere e in una bella casa. Jameson e Harry sono entrambi studenti talentuosi e molto capaci anche negli sport, tuttavia Jameson è il figlio prediletto, quello che dai genitori viene considerato sempre come il migliore, ma non perché lo sia obiettivamente. Insomma, lo hanno messo su un piedistallo, gli ripetono costantemente chi avrà successo nella vita, chi otterrà tutto ciò che desidera. Le lodi e le attenzioni che il ragazzo riceve dai genitori sono decisamente esagerate, tanto da apparire finte, forzate. Ma ovviamente Jameson adora tutto ciò, ama essere il preferito. Suo fratello maggiore Harry non ha mai ricevuto questo tipo di attenzioni da mamma e papà, anche se lui è altrettanto se non più brillante di Jameson. Dunque la rivalità tra i fratelli è particolarmente accesa. Ogni volta che Jameson ottiene dei bei risultati gli viene fatto un regalo. Ma ad Harry non succede, eppure è Jameson il più competitivo. Odia il fatto che al fratello maggiore venga data anche soltanto una minima attenzione per i suoi traguardi. Non importa che Jameson ottenga i logi costanti dai genitori, perché è troppo occupato a essere geloso di Harry. Jameson quindi cresce con la convinzione di essere destinato al successo. A scuola viene descritto come il ragazzo più arrogante mai incontrato. In pratica il modo di fare che attua a casa si replica a scuola. Quindi in realtà lui non piace quasi a nessuno, in tanti lo evitano perché è convinto di essere il migliore, il più intelligente tra tutti i compagni di scuola. Riesce a fare amicizia soltanto con un paio di compagni, Bob e Chip, perché anche nel suo gruppo Jameson vuole sempre primeggiare, essere al comando, tanto che ogni volta che giocano devono per forza farlo vincere. Quindi il ragazzo dovrebbe essere grato di avere qualche amico, ma in realtà lui non sopporta affatto Chip. Quindi fa il prepotente con lui, cerca spesso di estrometterlo. Jameson vuole essere l'unico amico di Bob, che non può dare attenzioni anche a qualcun altro. Ricapitolando, Jameson è un prepotente, un arrogante convinto di poter ottenere tutto ciò che vuole. L'ossessione a stare al centro dell'attenzione e soprattutto odia sbagliare. A metà degli anni settanta, Jameson si diploma e si iscrive al college per conseguire la laurea in giurisprudenza. Vuole diventare un avvocato, la legge lo affascina da quando era bambino, in quanto suo nonno, un avvocato difensore, lo portava con sé ai processi. Jameson quindi sta frequentando il suo primo anno di università. È una notte di gennaio del 1976, quando il ragazzo si trova in una confraternita con alcuni amici. Sono lì che chiacchierano e si divertono, quando all'improvviso uno sconosciuto fa eruzione nella casa e pugnala violentemente Ken, un amico di Jameson di appena vent'anni. Tutti i presenti sono sotto shock, come congelati, mentre l'aggressore pugnala Ken, ma poi la loro mente inizia a processare ciò che sta avvenendo. Ovviamente provano a intervenire, ma l'uomo punta il coltello contro la gola di Ken e gli la taglia. Poi scappa via. Jameson e gli altri confratelli si precipitano da Ken per cercare di fermare l'emorragia, ma il ragazzo non ce la fa salvarsi. Perde la vita così. Viene determinato che l'aggressore è un uomo di 25 anni, di nome Randy, che lavora come assistente in una delle biblioteche del campus. All'inizio di quel giorno Randy e Ken avevano avuto un litigio, perché Ken, per la seconda volta, stava mangiando in biblioteca, nello specifico un panino al formaggio. Randy gli aveva chiesto di smetterla di mangiare lì dentro, ma Ken si era rifiutato. Questo è il motivo per cui Randy ha ucciso Ken. Secondo Randy, Ken aveva cercato di stigarlo a iniziare una rissa. Randy afferma così di aver agito per legittima difesa e, incredibilmente, la fa franca. Ebbene sì, anche se i due avevano discusso all'inizio della giornata e Ken era stato ucciso la sera. Davvero non capisco come i giudici possano aver concluso che questo delitto è avvenuto per legittima difesa. Ad ogni modo, questo evento è particolarmente significativo per il protagonista del nostro caso, perché Jameson ne rimarrà traumatizzato. Tutti sostengono che, dopo il fatto, lui non sia più stato lo stesso. La sua personalità cambia drasticamente. Si isola sempre di più, diventa paranoico e non riesce più a seguire le lezioni. Infatti, qualche mese più tardi, abbandona il college e sparisce. I suoi amici non hanno più sue notizie, così come la sua famiglia. Jameson scompare per vent'anni. Arriviamo quindi alla fine degli anni novanta. Jameson, senza avvisare nessuno, torna nella sua città natale, Philadelphia. Incontra il suo amico del liceo, Bob, e gli racconta quello che ha fatto in questi vent'anni. Sostiene di aver passato un po' di tempo a Israele e di aver prestato servizio militare lì. Poi aveva incontrato una donna olandese, si era innamorato di lei e si era trasferito nei Paesi Bassi. Una volta lì, si era iscritto all'università per studiare il giapponese. Jameson è appena tornato e dice di aver bisogno di un posto dove stare. Ecco perché ha voluto incontrare il suo amico Bob. Diciamo che Bob in realtà si sente a disagio perché, anche se Jameson era il suo miglior amico alle superiori, poi non ha più avuto sue notizie. Jameson rispunta dopo vent'anni per chiedere ospitalità. Non ci si comporta così. Eppure Bob sente di non poter dire di no. Quindi accetta, ma questa non sarà una convivenza felice. La moglie di Bob trova Jameson esasperante, in quanto la maggior parte del tempo l'uomo se ne sta seduto senza fare nulla. Anzi, una cosa la fa. Si lamenta. Si lamenta di qualsiasi cosa, soprattutto della piega che ha preso la sua vita. Ma si lamenta anche di suo fratello Harry perché, a differenza sua, lui nella vita ha avuto successo e Jameson pensa che non sia affatto giusto. Quel successo, piuttosto, spettava a lui. Jameson dà sempre la colpa di qualsiasi problema agli altri. Non si assume alcuna responsabilità per le sue azioni. Inoltre, inizia a raccontare delle cose inaspettate e Bob e la moglie non sanno se credergli. Jameson dice loro che suo padre era davvero violento nei suoi confronti e che odiava profondamente sua madre. Inspiegabilmente, Jameson odia profondamente la sua famiglia e quando suo padre viene a mancare, si rifiuta di andare al suo funerale. Tuttavia, alla lettura del testamento, si presenta come? Terra di ottenere un'eredità, ma non gli è stata lasciata, visto che era sparito completamente per vent'anni. Jameson a questo punto vive ancora per un po' da Bob, ma sua moglie a un certo punto non ne può più e lo mette alla porta. Jameson non ha nessun altro a cui rivolgersi e si arrange in qualche modo, almeno fino agli anni 2000. L'uomo ha ormai superato i 45 anni e decide che è giunto il momento di laurearsi in giurisprudenza. In realtà, lui continua a voler diventare un avvocato, quindi si iscrive all'università, la frequenta e si laurea. Jameson finalmente ottiene il titolo che ha sempre desiderato. Tuttavia, non può ancora esercitare la professione forense perché deve superare l'esame di abilitazione. Prova a sostenere l'esame, ma fallisce. Come è possibile? Jameson è indignato. E invece, diciamolo chiaramente, capita di non riuscire a superare un esame così elaborato al primo colpo. E in questi casi bisognerebbe tornare a studiare, imparare dai propri errori, ripetere la prova. Ma Jameson decide che non sosterrà l'esame mai più. Quindi, anche se ha una laurea in giurisprudenza, in realtà non può definirsi un avvocato. Jameson riesce a trovare lavoro come insegnante in una scuola privata a New York, dove i professori vivono nel campus. Gli viene dunque assegnato un appartamento molto elegante, tuttavia Jameson non rimane molto a lavorare qui perché non si rivela un buon insegnante. È arrogante e convinto di essere migliore di tutti i docenti della scuola. Ben presto viene licenziato, ma si rifiuta categoricamente di liberare l'appartamento. Jameson mette a frutto le sue conoscenze legali e la scuola, per sfrattarlo, impiega due mesi. L'intera faccenda in realtà accende una fiamma nell'ego di Jameson, che ama essere in grado di sfruttare le proprie conoscenze giuridiche per avere potere sul prossimo. Per Jameson, la ricerca di questo potere diventa quasi una dipendenza. Era così elettrizzato dall'occupazione abusiva perpetrata nel campus che decide di agire in maniera simile. È il 2005 quando conosce Arlene, una dog sitter di 43 anni che vive in un appartamento nel Queens con i suoi quattro gatti. Jameson sta portando a spasso il proprio cane in un parco. I due chiacchierano con complicità e decidono di iniziare a frequentarsi. All'inizio della loro relazione, Jameson è arrogante come al solito, si mette sempre in mostra e si vanta della sua laurea in giurisprudenza. Poi comincia a lamentarsi con Arlene del fatto di essere stato licenziato ingiustamente in quella scuola privata di New York. Lo avevano cacciato dal suo alloggio di punto in bianco. E ora si ritrova senza casa, obbligato a vivere per strada con il suo cane. Cane che tra l'altro prima non aveva, quindi non ho idea da dove si è spuntato. Arlene si dispiace molto per la sua situazione e dice a Jameson che può stare da lei purché l'aiuti a pagare le bollette. Jameson, al settimo cielo, promette ad Arlene che avrebbe contribuito a sostenere le spese di casa. Nel giugno del 2006, Jameson si presenta davanti a casa di Arlene con un furgone per i traslochi, pronto a trasferirsi nel suo appartamento. Dopo appena un giorno di convivenza iniziano già a mostrarsi dei segnali allarmanti, diverse red flag. Arlene torna a casa dal lavoro e si rende conto che tutti i suoi immobili sono stati spostati. Si guarda intorno, passa da una stanza all'altra, niente è più al suo posto. Jameson ha riposizionato qualsiasi cosa. Arlene ha la sensazione di essere entrata nell'appartamento di uno sconosciuto. Jameson l'ha scelta come sua prima vittima, vuole renderla inquieta e paranoica e mostrarle che ha potere su di lei. Nelle settimane successive l'uomo continua a spostare i mobili e si lamenta con Arlene di qualsiasi cosa. Le finestre non si aprono correttamente, lo sciacquone del bagno non funziona bene, nel lavello c'è qualche piatto sporco usato per la colazione. Sommando queste motivazioni, Jameson si impone e si rifiuta di pagare quanto pattuito. Questo comportamento opportunistico va avanti per mesi, deteriorando la relazione tra Arlene e Jameson, che infatti finisce. Arlene ne ha abbastanza, vuole che Jameson se ne vada da casa sua. Si sta chiaramente approfittando di lei, non paga le bollette, non contribuisce all'affitto e la maltratta costantemente. Insomma, la vita di Arlene sta diventando un incubo e decide di coinvolgere la polizia. La donna va alla centrale di polizia più vicina e spiega la situazione. Ha dato ospitalità a un uomo che la sta facendo impazzire. Quindi, ora, vuole ottenere il permesso di cambiare le serrature. Perché, legalmente, Jameson non è un suo coinquilino. Ma la polizia le spiega che non è possibile farlo. Pena l'arresto, perché lui ha comunque il diritto di vivere lì. Jameson è titolare dei diritti legali di un abusivo. Vive nell'edificio, sta ricevendogli la sua posta. Quindi, Arlene non ha modo di cacciarlo. Jameson vivrà con lei per quattro anni. Come detto inizialmente, i due erano una coppia e condividevano anche il letto. Ma dopo la fine della relazione, Jameson si rifiuta di lasciare la camera di Arlene. Lei, pur di non dormire con lui, è costretta a lasciare la sua camera da letto per trasferirsi nella stanza degli ospiti. Jameson, in pratica, è entrato nella vita di Arlene e ne ha assunto il controllo. Ma, dopo quattro anni, che è un'infinità di tempo, Arlene è arrivata al limite della sopportazione. Lui vive ancora lì senza pagare né l'affitto né le bollette e l'ha obbligata a spostarsi in un'altra stanza. Arlene prova a parlargli, ma lui non le dà mai retta. Anzi, le risponde a tono e un giorno lei perde la pazienza e lo schiaffeggia. Jameson, a questo punto, va totalmente fuori di testa. Prende la donna per il collo e inizia a soffocarla. Arlene, per difendersi, gli sferra calci con forza e, fortunatamente, riesce a scappare. Esce dall'appartamento e chiama il 911. Gli agenti che si presentano sul posto cercano di calmare gli animi, ma Arlene, ormai, ha paura di Jameson, quindi chiede un ordine di protezione contro di lui e so sfratto. Allora anche Jameson fa una richiesta di protezione contro Arlene e si conclude che i due devono restare separati pur vivendo insieme. È una situazione, a dire poco, assurda. Appena Jameson si rende conto che Arlene ha chiesto il suo sfratto, si infervora e decide di presentare un falso rapporto alla polizia riferendo che Arlene lo aveva aggredito armata di coltello. Arlene viene arrestata, accusata e condannata a un anno di libertà vigilata. A causa di questi sviluppi degeneranti, Arlene è obbligata a lasciare casa sua. Ora, Jameson vive legalmente in quella casa da solo. Arlene, dopo lo sfratto, ha necessità di presentare un'ordinanza al tribunale per recuperare i quattro gatti che sono rimasti in casa. Tuttavia il sistema giudiziario ha tempi molto dilatati e i gatti intanto sono affidati alle cure di Jameson. Due dei felini sono malati e hanno bisogno di una terapia adeguata, ma Jameson preferisce lasciarli in un rifugio. Appena Arlene lo viene a sapere, si precipita lì e scopre che purtroppo per uno dei gatti è già troppo tardi. La malattia ha fatto il soccorso, il micio non è stato curato e viene soppresso. Arlene riesce a riprendersi il secondo gatto portato nel rifugio, ma non rivedrà mai più gli altri due. Che Jameson tiene con sé. Arriviamo quindi al 2012, Jameson ha 55 anni e individua una nuova vittima, Sonia, di 49 anni, che vive in un appartamento nel Queens. Abitava lì con il suo compagno, ma da poco ha chiuso la relazione ed è in cerca di una coinquilina. Sonia mette un annuncio su Craigslist e Jameson risponde. I due dovevano tenere un primo incontro conoscitivo, ma lui si presenta direttamente davanti alla casa con un furgoncino per i traslochi, pronto a sistemare le sue cose nell'appartamento di Sonia. Lei rimane perplessa, vorrebbe conoscerlo un minimo prima di fare questo passo, ma Jameson le paga immediatamente il primo mese di affitto. La donna sta fronteggiando gravi difficoltà economiche e Jameson, tutto sommato, sembra un bravo uomo. Ha un cane e due gatti, quelli di Arlene, e dice di essere un avvocato, anche se non è abilitato. Sonia si convince di aver trovato la persona giusta, anzi di aver avuto un vero colpo di fortuna, quindi permette a Jameson di trasferirsi subito. In fondo ha poca scelta, deve pagare il mutuo o rischia di perdere la casa. All'inizio Jameson sembra un ottimo coinquilino, i due diventano amici intimi, si divertono un sacco a passare del tempo insieme. Sonia adora la compagna di Jameson. Tuttavia, dopo pochi mesi, lui smette di pagare l'affitto, inizia a essere più aggressivo e a comportarsi come se quell'appartamento fosse suo. Sonia decide già che deve sbatterlo fuori e come Arlene va dalle autorità e chiede di poter cambiare la serratura del suo appartamento. Anche a Sonia viene detto che, così facendo, avrebbe infranto la legge secondo cui Jameson può esercitare i diritti degli occupanti abusivi. Le suggeriscono di presentare una domanda di sfratto attraverso il tribunale e attendere almeno tre mesi. Sonia però non può aspettare così tanto, sta faticando a pagare il mutuo. Teme di perdere la casa. Sonia quindi si mette in cerca e trova un'altra coinquilina, ma siccome non ci sono camere da letto libera nell'appartamento, la nuova arrivata deve dormire in una tenda nel soggiorno. Jameson non è affatto contento di questa situazione e rende la vita della nuova coinquilina un inferno, ponendo in essere atti intimidatori e aggressivi. In men che non si dica, inizia a entrare nella tenda del soggiorno e a frugare tra le cose della donna. Ma non è finita qui perché fa lo stesso anche nella stanza di Sonia. Lei sospetta che qualcuno stia frugando nella sua camera e decide di mettere una bottiglia di vino davanti alla porta prima di uscire per andare al lavoro. La mattina. Una volta rincasata, Sonia trova la bottiglia contro il muro, non più dietro la porta, e ha conferma che qualcuno sta entrando in camera sua. E quel qualcuno deve essere Jameson. Sonia va ad affrontarlo. Jameson cerca di intimidirla, urlandola in faccia. Tuttavia, la donna non ha paura di lui, aveva già vissuto un'esperienza molto traumatica. Una sua amica era stata uccisa e dopo la tragedia, lei aveva deciso di prendere lezioni di autorifesa. Quindi, sa come era agire se Jameson le mette le mani addosso. Purtroppo, alla fine, ogni coinquilino che si trasferisce nella tenda in soggiorno non riesce più a sopportare il clima che si respira in quell'ambiente e decide di andarsene. Sonia è sempre più in difficoltà, non riesce a pagare le rate del mutuo e il debito. Sta crescendo. Intanto, l'atteggiamento di Jameson peggiora. Lui diventa sempre più aggressivo e violento. Quando, tra ottobre e novembre del 2012, l'uragano Sandy colpisce gli Stati Uniti, Sonia abbandona momentaneamente il suo appartamento, mentre Jameson rimane lì ancora per un po'. Poi, chiaramente, se ne va anche lui. Tuttavia, ormai è tardi per Sonia. Ha mancato troppi pagamenti. E perde la casa. Arriviamo alla fine del 2012. Jameson individua la sua prossima vittima, Melissa. L'uomo riesce a trasferirsi a casa sua raccontandole che aveva perso tutto, anche la casa, durante l'uragano. La situazione non cambia. Jameson mette a disagio la donna che gli ha dato ospitalità, sposta i suoi mobili, si rifiuta di pagare la sua parte d'affitto, diventa fisicamente aggressivo. Durante una lite, Melissa prende il microonde di Jameson per portarlo nella sua camera. Lui, però, non accetta che qualcuno gli tenga testa e la afferra per le spalle, mentre si trova sulle scale, mettendola a rischio di cadere. Un'amica di Melissa, lì presente, per fortuna le raggiunge sulle scale e Jameson si ricompone. L'intruso ormai ha assunto il pieno controllo della casa di Melissa e arriva addirittura a dirle che ora quella casa è sua. Anche Melissa prova a sfrattarlo, ma come detto la procedura è complicata e lenta. Inoltre, Jameson intraprende svariate azioni legali contro la donna, fa delle contro rivendicazioni a tutte le sue ragioni espresse nella richiesta di sfratto. L'occupazione seriale che attua Jameson sta diventando un lavoro a tempo pieno e lui si diverte molto a sfruttare le sue conoscenze legali e intentare tutte queste cause che, però, non intende portare a termine, visto che comportano un esborso consistente. Jameson usa la legge come strumento per intimidire le sue vittime, dando loro la sensazione di essere impotenti. Occorrono mesi prima che Melissa, per fortuna, riesca a cacciarlo di casa. Arriviamo al 2015, quando Jameson si trasferisce a casa di un uomo, Mark. Jameson trascorre tutte le sue giornate andando in giro per casa con una mazza da baseball cercando di intimidire Mark. Poi, nel 2016, si sposta da un uomo di nome Michael e rende la sua vita un inferno, esattamente come per tutti gli altri. All'inizio del 2017, Jameson trasloca a casa di un uomo, Neville, e la storia si ripete, anzi diventa più allarmante. Jameson aggredisce il coinquilino con la gamba rotta del tavolino del salotto e, inoltre, intasa continuamente il water con la lettiera dei gatti. L'uomo fa questo dispetto provandoci gusto e, dopo aver riempito il WC con le fecci del gatto, invia anche una foto al cellulare di Neville. Questa situazione si ripete con tantissime altre persone e, probabilmente, ci sono ulteriori vittime non note perché nella storia di Jameson emergono dei buchi temporali in cui non si sa cosa stesse facendo e dove si trovasse. Arriviamo all'ultima vittima di Jameson, una donna di nome Alex Miller, di 32 anni, che vive a Filadelfia. La sua coinquilina è andata via da poco, quindi Alex ha bisogno di qualcun altro che l'aiuti a pagare le bollette e decide di pubblicare un annuncio su Craigslist. Per due settimane non si fa sentire nessuno, finché Jameson la contatta. Questa volta fornisce un nome falso, dice ad Alex che si chiama Jed Creek, che fa l'avvocato a New York, ma vuole tornare a Filadelfia perché ha bisogno di avvicinarsi alla famiglia in quanto un parente è gravemente malato. Storia ovviamente inventata. Jameson, continua a chiamarlo così per non confondervi, organizza un incontro con Alex. A lei preoccupa principalmente che lui abbia un cane, visto che anche lei ne ha uno, ed è importante che i due animali vadano d'accordo. Così i padroni si incontrano con i cani che interagiscono senza problemi. Quindi Alex pensa di aver trovato un coinquilino ideale. Jameson sembra un brav'uomo, per di più fa l'avvocato, quindi una persona su cui si può contare. Così gli permette di trasferirsi da lei. Alex però ignora che Jameson ha anche un gatto. Non si sa che fine abbia fatto l'altro felino, tra l'altro. A questo punto Jameson ha solo un gatto. In ogni caso, quando Alex lo vede entrare in casa con un cane e un gatto, gli spiega immediatamente che è allergico ai gatti, ma Jameson se ne frega altamente. Jameson si sistema e Alex gli chiede di firmare i documenti per regolarizzare l'affitto, ma lui comincia a trovare scuse per rimandare la sottoscrizione del contratto. A lui conviene rimanere nella condizione di occupante, così la legge sarà sempre a suo favore. Passa qualche giorno e Jameson, come al solito, inizia a spostare i mobili presenti in casa di Alex. Un giorno lei torna a casa dal lavoro, prova ad accendere la luce, ma Jameson ha rimosso tutte le lampadine. Un'altra volta, rincasando, Alex nota che le sedie non sono più attorno al tavolo da pranzo. Bussa alla porta della camera di Jameson e le individua tutte e sei lì dentro. Gli chiede di rimetterle a posto, ma lui gliene restituisce soltanto due, giusto quelle che servono perché possano sedersi a tavola. Poi Jameson inizia a inventare scuse, dice che Alex deve aggiustare varie cose nell'abitazione, altrimenti lui non avrebbe più pagato l'affitto. In un'occasione, Jameson accusa Alex di aver gettato un mozzicone di sigaretta nel water, un altro motivo per cui si rifiuta di pagare il canone. Anche la vita di Alex si trasforma in un inferno e lei si spoga con sua madre che le chiede il nome e il numero di telefono del coinquilino. La donna inizia a fare delle ricerche su Google su questo Jet Creek e riesce a scoprire che ha fornito alla figlia un nome falso. In realtà lui si chiama Jameson Bachman. Numerosi articoli lo descrivono come uno che è solito occupare abusivamente alle case degli altri. C'è anche un articolo di Melissa che racconta l'incubo da lei vissuto. Appena Alex lo legge, va nel panico. Quest'uomo ora è in casa sua, poi cerca di calmarsi, di pensare lucidamente a cosa fare. Alex decide di organizzare una festa che definisce il party per l'occupante seriale, Jameson Bachman. Sa bene che lui odia il baccano, la musica ad alto volume e chi beve alcolici. Alex invita a casa sua circa 30 persone, servirà un whisky del marchio Jameson e ha chiesto a tutti gli ospiti di venire con la stampa dell'articolo scritto da Melissa. Gli invitati attaccano le stampe sulle pareti dell'appartamento di Alex in modo che Jameson sappia che lei ha scoperto la sua vera identità e cosa sta facendo da anni ormai. La festa ha luogo il primo maggio del 2017 e l'intento di Alex è provocare Jameson. Dunque, la musica risuona a tutto volume, le stampe dell'articolo scritto da Melissa ricoprono anche i pali della luce e le mura attorno all'appartamento di Alex e tutti stanno bevendo Jameson whisky. Poi gli invitati decidono di andare a fumare davanti alla porta della stanza di Jameson solo per indispettirlo. Sono tutti e 30 coinvolti nel tentativo di cacciarlo. Jameson si precipita fuori dalla sua camera da letto infastidito e lascia l'appartamento per fare una passeggiata. Appena si allontana, Alex e i suoi amici rimuovono la maniglia della porta della stanza occupata da Jameson usando un cacciavite. Quando Jameson torna a casa e prova a rifugiarsi alla svelta nella sua camera si rende conto che non può più chiudere la porta. A questo punto Alex spera vivamente che lui se ne vada ma in caso contrario ha già pronto un piano B. Avrebbe organizzato feste ogni singola sera fino alla sua dipartita. La festa purtroppo non produce l'effetto in cui Alex sperava. Il giorno dopo Alex si sveglia molto presto, verso le 4.30 del mattino e scopre che anche Jameson è in piedi è pronta a vendicarsi. Alex va in bagno ma Jameson la segue spalanca la porta con un calcio e spinge Alex contro il muro. Le mette le mani attorno al collo e inizia a soffocarla dicendole hai commesso un grave errore, stupida. Poi la lascia andare e torna nella sua camera ma Alex lo segue infuriata e gli grida chi diavolo pensi di essere? Jameson ha un'altra reazione violenta si scaglia contro di lei, la spinge fuori ma la gamba di Alex resta incastrata nella porta. Jameson sbatte e risbatte la porta per almeno dieci volte massacrandole la gamba. Non solo, si allunga per afferrare un coltello e le pratica dei tagli sulla gamba. Alex riesce a liberarsi e a rintanarsi nella sua camera dove si chiude a chiave. Chiama subito la polizia che arriva velocemente sul posto. Alex spiega l'accaduto agli agenti e Jameson viene finalmente arrestato, accusato di aggressione aggravata e mandato in prigione. Finalmente. Jameson, furioso con Alex, chiama suo fratello Harry affinché lo aiuti a uscire dal carcere. Anche se Jameson gli è sempre stato ostile e non si fa sentire da decenni, Harry non sopporta che il fratello minore stia dietro le sbarre, quindi accetta di collaborare per liberarlo su cauzione. Ormai due hanno 60 e 64 anni. A giugno Jameson quindi torna a piede libero ma dopo quattro mesi, a ottobre del 2017, viene nuovamente arrestato per aver violato l'ordine di protezione contro Alex. L'ha incontrata nel dipartimento di polizia locale per recuperare gli effetti personali che aveva lasciato a casa sua e le ha gridato Sei morta, puttana! Così lei, giustamente, lo ha denunciato. Di nuovo dietro le sbarre, Jameson ritelefona a Harry per chiedergli ancora di farlo uscire su cauzione. Il fratello maggiore, che dovrebbero far santo, accetta per la seconda volta e Jameson gli chiede pure di ospitarlo a casa sua. Tuttavia, Harry sa che il fratello può diventare aggressivo e violento quindi si rifiuta di accoglierlo in casa, di mettere in pericolo sua moglie. Santo sì, scemo no! A questo punto la rabbia di Jameson esplode e la vecchia rivalità, nutrita verso il fratello, riaffiora. Jameson a questo punto vuole vendicarsi proprio contro Harry, il suo salvatore. Lo odia ancora. Detesta il fatto che lui abbia una carriera di successo, una famiglia e una bellissima casa. Per Jameson non è giusto. La sera del 3 novembre 2017 Jameson decide di entrare a casa di Harry di nascosto sapendo che lui è da solo. Una volta dentro Jameson inizia a picchiare ferocemente il fratello maggiore al punto che alla fine dell'aggressione Harry perde la vita in pochissimi secondi. L'ha picchiato a morte. Harry ha subito un trauma cranico davvero violento e brutale. Jameson trascina il corpo di Harry nel seminterrato, gli ruba i vestiti e li indossa al posto suo, gli sottrae anche la carta di credito e scappa via dalla scena del crimine. Si precipita in un hotel vicino ed effettua il check-in usando la carta di credito di Harry e addirittura spacciandosi per lui. Sono onesta, non comprendo davvero l'odio che Jameson nutre verso suo fratello che tra l'altro era sempre stato quello meno elogiato tra i due quando erano giovani e vivevano ancora insieme. Ciò nonostante, Harry aveva continuato a dare il meglio di sé e si era costruito una vita di successo più che meritata. Harry a Jameson non ha fatto nulla di male, anzi lo ha aiutato tirandolo fuori dalla prigione pagando la cauzione per ben due volte. Intanto la moglie di Harry è fuori città e aspetta purtroppo di incontrare il marito ma lui non risponde al telefono e lei non riesce a contattarlo in nessun modo. Cosa alquanto inusuale. La donna quindi chiama la polizia e chiede agli agenti di passare a casa sua per un controllo. È a quel punto che viene scoperto il corpo di Harry in fondo alle scale del semi interrato. La polizia visto che nessuno aveva aperto la porta l'aveva buttata giù con il sentore che Harry si fosse sentito male. In breve tempo gli agenti scoprono anche che la carta di credito della vittima è stata utilizzata in un hotel vicino e una squadra SWAT viene immediatamente inviata lì a sole 7 miglia di distanza. La polizia raggiunge la stanza in cui alloggia chi ha utilizzato la carta di credito di Harry. Sfonda la porta e si ritrova davanti Jameson che afferrata un'ascia inizia a brandirla contro gli agenti. L'assassino riesce addirittura a colpire uno di loro in faccia e un altro al braccio ma infine riescono a trattenerlo e arrestarlo. Dopo l'arresto Jameson viene preso in custodia e accusato dell'omicidio di suo fratello Harry. Mentre è in prigione in attesa del processo l'8 dicembre 2017 Jameson si trova la vita nella sua cella impiccandosi. Finisce così l'esistenza del peggior inquilino di sempre. Si interrompe la serie di convivenze da incubo ma nel suo oscuro tragitto Jameson ha rovinato davvero molte molte vite. Io ho finito di parlare in questo video non avevo mai sentito un caso di questo tipo onestamente di un occupatore seriale e mi ha incuriosito parecchio onestamente davvero io non capisco cosa abbia portato Jameson a uccidere suo fratello che fosse una persona inclina alla violenza già lo avevo immaginato visto che insomma diventava violento con parecchie persone ma non capisco perché l'abbia ucciso a suon di botte cioè onestamente è una cosa che non riesco molto bene a comprendere perché davvero suo fratello non gli ha mai fatto nulla di male e lo ha anche aiutato quindi fatemi sapere cosa ne pensate di questo caso come al solito come vi ricordo ci becchiamo qui sotto nei commenti io nel frattempo vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti